Pronta la proroga da Palazzo San Francesco per il comandante protempore della polizia locale Paolo Lagatta che resterà alla guida del corpo fino al 25 settembre prossimo quando cederà il testimone a Domenico Giannetta il vincitore della procedura concorsuale bandita dal comune per il reclutamento del comandante dirigente della municipale. Nelle more delle visite mediche della contrattualizzazione dal comune si stanno adoperando per accordare la proroga Lagatta il cui incarico scade formalmente nella giornata odierna. A fine settembre quindi in via Mazzara torna il comandante dirigente. Le procedure concorsuali erano partite lo scorso 22 maggio con il boom di rinunce per la prova scritta. Al temuto appuntamento si erano presentati 21 candidati su un totale di 59 che avevano depositato la domanda entro il termine di scadenza del bando una disersione probabilmente legata al rischio ANAC che in un momento si era pure paventato per l'autonomia del segretario quale presidente della commissione giudicatrice rischio che è stato poi superato che comunque non ha avuto alcun seguito. Le procedure concorsuali sono quindi proseguite con nove candidati che hanno avuto accesso alle prove di informatica inglese e alla prova orale. Giannetta le ha superate tutte e ha ottenuto il punteggio più alto. Il comandante Giannetta ha già avuto in passato forme di collaborazione con il comune di Antripalda attraverso il progetto di sicurezza Valle del Sabato. ha iniziato la sua carriera da agente della Polizia Municipale di San Potito Ultra il primo agosto dell'87, poi nell'ottobre 99 ha assunto l'incarico di responsabile di tale servizio con il grado di maresciallo maggiore per poi passare nell'ottobre 2006 a prendere il grado di tenente e comandante del servizio associato all'ipolizia municipale di vari comuni. L'impegno, la dedizione al lavoro ma soprattutto la passione lo hanno portato ad essere un esperto di progettazioni in materia di sicurezza urbana con vari progetti finanziari dalla Regione Campania e dal Ministero dell'Interno. Ora è pronto a trasferirsi a Sulmona.